Sono stati gli attori della fiction televisiva Un Posto al Sole, Patrizio Rispo e Elenia Lazzarin a condurre una visita guidata speciale della mostra Ori Argenti, Gemme e Smalti della Napoli Angioina, presso il Museo del Tesoro di San Gennaro. Siamo orgogliosi di essere ambasciatori della Napoli che più amiamo e che andrebbe valorizzata sempre di più, ma non c'è limite a questa voglia di valorizzare il nostro territorio e i nostri beni che sono immensi e numerosissimi. Beh, io ho la fortuna di vedere i posti più belli di questa città che mi ha accolto da più di 14 anni e in questo ruolo ho in realtà questo privilegio di girarla, di studiarla ed è piena e ricca di storia, è una ricchezza incredibile sia per voi che per tutto il mondo secondo me. L'idea nasce da una già avviata collaborazione tra la RAI, la produzione di Un Posto al Sole e l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli sulla promozione del patrimonio artistico, architettonico e culturale della città. Ed è la scorsa settimana infatti la firma del protocollo d'intesa in virtù del quale si snelliscono gli iter burocratici per i permessi di riprese televisive che promuovano le bellezze della nostra città e dei suoi siti museali e civici. Questa è una mostra straordinaria, direi unica e irripetibile che solo a Napoli si poteva fare perché tra l'altro ci permette di vedere il busto di San Gennaro che si vede solo in occasione degli avvenimenti sacri, del miracolo, di vederlo invece anche nel suo aspetto di preziosissima opera d'arte. E quindi è davvero questa una mostra di cui siamo orgogliosi. E poi è davvero, credo, bello e interessante che questi nostri attori, che sono così amati e che nello stesso tempo amano moltissimo la nostra città, oggi sboggano un po' questa funzione di testimonianza e questo loro mettersi a disposizione della città, delle sue bellezze, del suo patrimonio artistico e culturale, spero serva anche a richiamare l'attenzione di tutti i cittadini. La mostra, progetto speciale inserito nel Forum Universale delle Culture di Napoli, è un evento inedito ed un'occasione unica di approfondimento della cultura e della civiltà angioina a Napoli. Sono infatti riuniti in un unico luogo le più grandi testimonianze artistiche dell'epoca provenienti da musei di tutta Italia ed Europa. Sono oggetti che non vengono quasi mai prestati, quelli che vengono da fuori, che sono la gran parte, e che restituiscono nella loro unità, questa è una cosa interessante anche storicamente, l'unità di quel periodo, del primo periodo angioino di cui si parla, e la grandiosa capacità degli artigiani napoletani, degli orafi napoletani di essere a livello dei grandi orafi europei.